Tra le vostre domande, Alessandro ha avuto in famiglia vari casi di tumore al polmone. Ogni anno effettua gli esami di routine e chiede quanto può essere affidabile una radiografia al torace. Alessandro, lo specialista, ti risponde. La radiografia al torace è un esame molto importante. È il primo esame che viene fatto sempre per la patologia polmonare e ci dà molte informazioni. Può darci delle informazioni anche sui tumori, a volte dei tumori periferici o delle lesioni secondarie al polmone vengono riconosciute con la radiografia del torace. Però in un paziente particolarmente a rischio, per familiarità o per fattori di rischio come il fumo di sigaretta, è necessario e meglio sottoporsi a un controllo con l'attacca. E anche se dalla radiografia del torace, per manco dei dubbi, è meglio sempre fare un attacca del torace.